Ciao gente! Ciao! Ah, quanto tempo, eh? Eh, un bel po'. Mi sembrava, vero, di sentirci. Eh, infatti, infatti. Adesso stiamo introducendo un nuovo capitolo dell'era... Dell'era, sì, youtubeiana, come vogliamo chiamare. Esatto. No, ok. Quindi abbiamo deciso di chiamarla Come? Dopo ore e ore di... Sì, a proposito, se avete dei nomi da consigliarci, scrivetegelo perché... Noi riteniamo che il più... Azzardato, no? Sia questo, no? Call of Skype. Anche abbreviato in cos, che mi fa un po'... Vabbè. Che non è che è cocca, però... Vabbè, Call of Skype è, come dire, un po' l'alternativa ai... Omologatissimi vlog che fanno un po' tutti, no? Esatto, cioè, parliamo un po' dei cazzi nostri, di quello che ci capita, o se no, di piccole recensioni di giochi. Diciamo, buttiamola un po' lì. Ma sì, un po' di put... Vabbè. Diciamo una cosa che possiamo fare un po' più agevolmente, quindi sprecando meno tempo, visto che, in questo periodo, io, soprattutto, ho avuto dei problemi. Bastardo. E no, quindi, nelle Call of Skype, diciamo, vi dovreste esorbire solo la nostra voce, come dei poveri stronzi. Esatto. Vabbè. E quindi, niente, vedremo questo progetto, se riusciamo a portarlo avanti, se piace o non piace, vediamo un po'. Più che altro è per rimanere più in contatto con voi, a parte i colossal hollywoodiani, che sono i commentari. E allora, e quindi, dicevo che, sai, siccome siamo... è da un po', diciamo, che non registriamo, è in parte, gran parte colpa mia che io ho cominciato la scuola, un po' di cose da fare, eccetera, eccetera, quindi mi scuso. Io oggi mi sto curando il mal di gola col succo di frutta ghiacciata, del mal di gola. Io col coca cola, invece. Non so chi può interessare. E quindi, vabbè, promettiamo che ricominceremo a far tutto, sì, 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 con calma, poi magari, cioè, ci metteremo dentro un po' di queste cose. Quindi rassicura la gente che credeva che tu ti eri andata a fare un altro al posto di me. Io giuro che... Da, che si tromba solo me, ok? Oh, diciamolo. Lo chiariamo, domani su Novella 2000 troverete tutte le informazioni, vabbè. Eh, oppure a lei... Vediamo più avanti. Prossimo punto. Bene. E, vabbè, oltre ai problemi, alle scuse dello stronzo, esatto. Allora, ho il libretto con la giustifica, se vuole. Beh, ci mancherebbe, se no, bocciato. E, niente, si aggiungono anche i miei problemi, che, comunque, io ho fuso un'ardisca, sì, ebbene, sì, se me lo volete ricomprare, accetto donazioni, anche perché l'ho già comprato, eppure il secondo è fuso. E... Sì, complimenti alla fortuna. Va bene. Non cercherò mai il superenalotto, che ti devo dire. E quindi... Sì, di problemi ce ne sono stati abbastanza. Abbiamo anche fuso due commentari, se questo può far piacere. Esatto, cioè, in teoria, noi, come ci avevate chiesto... Cioè, noi Dead Island e anche Warhammer, li abbiamo, li avevamo, li abbiamo fatti. Proprio, il commentario era finito, fatto e finito, registrato. Esatto. Allorché, ci sono accorti che mancava... Mancava un po', esatto, mancava solo il 50%, diciamo, della storia, no? Mancava la nostra voce. Cioè, diciamo che... No, no, la tua c'era. Quindi se... Ah, mancava la voce di Alec. Mancava la voce del sottoscritto. Io parlavo da solo, come un pirla per mezz'ora. Se avevate un commentario su Dead Island, dove Doug rideva e delirava da solo, fatecelo sapere, non andateci tanti sms... Sì, sì, altre quattro... Al 48322, che si ammazza. Esatto. E quindi... E soprattutto, e soprattutto i problemi relativi a YouTube. Oh, questa è un'altra gran bella granata in the ass. No, e diciamo che YouTube è sempre funzionato un po' all'incontrario, ok? Cioè, dovrebbe... È un posto dove dovrebbe uno promuovere ciò che vuole, e invece finisce col prenderlo quasi sempre dove si fa la cacca. E quindi per un vecchio... un vecchio Ale Video. Esatto. Io mi ha preso la casa editrice, come sa fare YouTube... Com'è che si chiama? Che la salutiamo. Ah, ciao Toei Animation! Toei Animation? Sì. Ciao Toei Animation! Grazie, eh! Se qualcuno sa cos'è la Toei Animation... Può fare due. Cioè, fa due più due sul video che avevo messo, vabbè. Vabbè, quindi... È stato warnato il canale... Quindi niente più video sopra i 15 minuti. Almeno, penso... Cioè, il warn è a tempo indeterminato. Non ci sono termini per farlo scadere. Quindi noi dobbiamo fare altro che rigare dritti. E cercare di mettere, appunto, meno roba che comprometta l'account. Esatto. Quindi proveremo a... Proveremo, vabbè. Proveremo. Per ora abbiamo il limite di 15 minuti, che bello. Cercheremo, lo so. Comunque, magari la gente ringrazierà che non lo mettiamo da 20-22 minuti. Quindi, godetevi quelli di Crysis, Breaking the Rules, vabbè. Vabbè, poi... Quindi, visto tutti questi problemi che abbiamo avuto, abbiamo avuto la magnifica idea di fare un bel due in uno. Cioè, visto che Dead Island e Warhammer li avevano fatti ma sono stati veramente... Ecco, quella parola lì. Potevamo fare... O meglio... Ale, spiegala a te che sei più bravo. No, niente. Volevamo... Praticamente, dato che per noi ormai, ok, non sono vecchi, però un po' ci è scesa proprio. Pensavamo di fare giusto un unico video, appunto massimo di 15 minuti, dove parliamo di entrambi e vi facciamo una panoramica sui due giochi, ok? Parliamo un po' dei giochi. Noi mettiamo le immagini sotto, però ovviamente non siamo lì di nuovo a creare le situazioni di mille bug che ci potrebbero essere. Peccato, perché un po' meritavano, però... Soprattutto Dead Island, eh? Vabbè, useremo quegli sketch in altri giochi. Metteremo immagini di Doom Track, se ti devo dire. Vabbè, e quindi se mi piaceva l'idea, se mi aggradava, potevamo fare un singolo commentario di due giochi, dove però... Vabbè, almeno non siamo così stronzi da passare dall'ultimo, che è Call of Juarez... Ah, Battlefield 14. Esatto, cioè almeno diamo un po' una boccata di respiro a tutti voi, che ringrazio. E poi dei giochi che ultimamente stanno uscendo un casino, quindi... Beh, magari... Boh, vabbè. Ma ne escono sempre un casino, noi ne aspettiamo sempre un casino. Anche se ci sarebbe altro da fare, no? Ah, e come si chiama quello di Isaac? The Binding of Isaac. Esatto, avete visto i video che hai fatto? Ragazzi, vi è piaciuto? Grazie, avermi un po' spaccato le gambe. Non è piaciuto, a me quel gioco piace, non so se... So che non è facile alla COD, dove metti l'esplosivo ed esplodere la base. Eh, effettivamente l'assenza del multiplayer dove ci si spara addosso. Cazzo, in effetti una classifica online con mille Isaac che si sparano lacrime, non so, nel deserto con i carri armati mancava. Doveva esserci. Vabbè, vabbè, vabbè. E quindi passiamo alla prossima scaretta. Punto della classifica online. Sì, sai come tipo Miss Italia, che hanno la scaretta. The winner is... No, vabbè. E vabbè, ultimo punto, no? Direi, o ce n'è qualcun altro prima. No, no, per ora, poi lo so cazzeggiamo. Ah, quindi un sacco di frutta. Vabbè, parliamo. Quindi parliamo un po' del fatto che potremmo vederci, ovvero, noi, i giorni che non sappiamo, vi faremo sapere in un prossimo di questi video. A partire dal 11 novembre, comunque. Dove cazzeggiamo, sì. C'è questo EICMA, che è l'esposizione internazionale del ciclo, motociclo e accessori, conosciuta dal mondo come Milano Milan Motor Circle Show, vabbè, non so neanche come si dice. Sì, il circo delle moto, no, scusate, ok. Non vedete che è una fiera con moto e accessori, bla bla bla. È una fiera con delle moto fiere. Beh, che si terrà... Pasrono, penso. Sì, si terrà a Roffiere, Milano. Quindi se siete in zona, non so se volete passare... Io e Doug ne approfittiamo appunto per beccarci anche con degli altri nostri amici. E ci divertiremo. Già che siamo a Milano e non siamo, cosa ne so... Ad altri posti fuori dal mondo. Sì, in mezzo alle Alpi. Chi volesse, non so, vederci, ammazzarci di botte perché abbiamo fuso l'hard disk e abbiamo fatto un po' più di vita del normale. Venga, ovviamente... Vi facciamo dei commentari dal vivo se volete. Sì, sì, sì. Vole sulle moto, io salgo sulla moto, mi faccio un giro, torno e vi parlo dei bug, motore grafico. Sì, sì. Poi Doug vuole fare autografi sulle tette a chiunque. Anche ai maschi. Anche ai maschi. Penso siano tutti un pubblico maschile, no? Certo. Mostrate le vostre tette, noi siamo lì col penarello indelebile, dalle moto. Quindi, vabbè, poi per metterci meglio d'accordo magari facciamo un altro video. Sì, sì, comunque... O comunque, per chi fosse interessato, ci mettiamo d'accordo messaggi, cosa ne so. Vabbè, comunque si faremo un altro video dove diciamo... Perché dura più giorni il Lakema. Dura dall'8 al 13 novembre 2011. Noi andremo lì un giorno, penso. E quindi vi faremo sapere quando, perché, come... Se siete interessati delle moto di altro, diciamo... Eddie, Doug, Gale, i suoi splendidi amici e le loro fantasmagoriche avventure, veniteci a trovare, no? Va bene, va bene, poi... Sentiremo un po' meno. Ci è d'accordo. Quanto manca alla bomba... Cliccava un minuto e dieci, quindi... Ah, cosa possiamo dire in un minuto e dieci? Cosa possiamo dire? Grazie a tutti. Avete preordinato Battlefield? Infatti, Battlefield, avete preordinato voi? Ah, sì? Io non ancora. Doug, ovviamente è il solito stronzo che non fa un cazzo. No, è arrivato, tra l'altro, se volete preordinarlo da Zabby, che costa meno. A me è arrivato ieri uno sconto del 10%. Davvero? Ti è arrivato anche a te? Solo userò quello. Che è quello dei tre euro, quindi. Quindi è fondamentale adesso. Esatto, esatto. Adesso, cazzo, finalmente puoi darti alla fazza gioia, no? Con quei tre euro gratis. Ragazzi, compro tutto. Siete pazzi voi? No, va bene, quindi i prossimi giochi sicuramente Battlefield farà parte del nostro repertorio dei commentari, perché... Ecco, anche una cosa che faremo in futuro è non solo i commentari su Battlefield, ma anche delle cose più commentate, più easy. Poi passa il tempo, diciamo. Esatto, una cosa più... più comune ai soliti canali italiani di YouTube, almeno gli diamo un po' di concorrenza, un po' di filo da torsere. Dio! Eccolo qua, è partita il timer che ci ha avvisa che dobbiamo smettere, perché sono quasi finiti 15 minuti, quindi... Quindi poi la svuota di YouTube ci viene a mitragliare. Esatto. Noi dobbiamo chiudere, ma ci facciamo risentire con, appunto, il prossimo caso su Warhammer e Dead Island. Esatto. Va bene, quindi ciao a tutti e fateci sapere cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi. E chi non segue i Calls of Skype... Compra Call of Duty. Alla fine, cazzo. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao.